Una costruzione di otto metri per otto per uno e vento, un cemento, una scultura gigantesca di stagione sotterrà il consueto istituzionale bisogno della laguna di Venezia per fornirne forse. E' no, non fa queste cose, non si fanno riconosciare tutti, eh? Che so? Sono in bucina, in bucina. Ma pure io gli tocco di vado a picciare ucina. Sì, non c'è anche il cittadino. Allora, la struttura porta maffietà, non è vero. Chi stai soffando? Si sta attentando a mettere i piedi per tolto. Ma che sono in bucina? Che ti fate male? Beh, ma c'è un'altra volta da mettere i cittadini. C'è un'altra volta da mettere i cittadini. Ago, guarda il gigante. Io gli sono cresciuti l'alberi a mio ovo. Beh, questo gigante lo regolò qua fuori, guarda, io gli sono cresciuti l'alberi a mio ovo. Non da avere quasi personali i stupi di tali. Ma sicuro no, ma se non si rende sopportimenti, no, non lo vuoi. Areo, quel luce in cazzo deve dire. No, ma no. Anima per l'alberi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi domandano tutte a me. No, ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti.